Ciao a tutti ragazzi, buon venerdì e benvenuti a Video Game News, la rubrica di EvryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Oggi cominciamo da Bayonetta 2, Platinum Games e Nintendo. Come sapete il secondo capitolo della saga è in dirittura ormai d'arrivo sull'ammiraglia di Nintendo. Sembra proprio che secondo alcune dichiarazioni del Game Director il suo dalizio potrebbe continuare anche per un ipotetico terzo capitolo. Nulla è ancora stato annunciato, però il Game Director ha appunto rivelato che il legame con Nintendo è stato molto positivo dato che la casa ha lasciato totale libertà creativa a Platinum Games e quindi questo potrebbe insomma tradursi in un terzo capitolo nuovamente in esclusiva per Wii U. E passiamo a Dironobu Sakaguchi, sicuramente lo ricorderete, è il celebre creatore di brand quali Final Fantasy, The Last Story e Lost Odyssey. Proprio lui svelerà nel corso del ormai prossimo Japan Expo il suo nuovo progetto. Il 2 luglio terrà una conferenza nella quale oltre a parlare un po' della sua lunga carriera e anche della sua visione sul futuro dei videogiochi, svelerà un gioco ancora non annunciato. Speriamo che non si tratti di un prodotto mobile come gli ultimi dei quali si è occupato, ma che possa trattarsi di un JRPG con pieni valori produttivi, lo scopriremo soltanto a breve comunque. Notizie anche da Sony che finalmente ha svelato la data di uscita di First Light, ossia il DLC standalone di Infamous Second Son. Sarà rilasciato il 27 agosto e non necessiterà del gioco originale per essere acquistato e golluto. Nel DLC vestiremo i panni di Fetch Walker e scopriremo alcune aree finora inedite, oltre a diverse migliorie al comparto grafico, soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione. Quando si parla di JRPG uno dei primi nomi a venire alla mente è sicuramente Dragon Quest. Gli ultimi capitoli della saga, come ricorderete, sono approdati sempre su console Nintendo e questo fa credere che ci sia un forte legame tra la stessa casa e Square Enix. Durante una recente riunione con gli investitori, tuttavia, i vertici di Square Enix hanno ventilato l'ipotesi che il brand possa ritornare anche su marchio PlayStation, proprio per aprire il più possibile il potenziale pubblico. Naturalmente vi terremo informati con tutti i possibili sviluppi. Novità anche per Deep Silver, che ha finalmente svelato la data di uscita di Metro Redux. Lo ricorderete, si tratta di un pacchetto che comprende Metro 2033 e Metro Last Light, riveduti e corretti, sia dal punto di vista grafico, sia con alcuni ribilanciamenti del gameplay e scene reintegrate, sorta di Director's Cut praticamente. Le piattaforme di destinazione naturalmente sono PC, PlayStation 4 ed Xbox One e la data che è stata per uscita è il 29 agosto. Vi ricordiamo, tra l'altro, che i giochi verranno venduti in versione Redux anche separatamente. E passiamo ad Activision, che ha svelato l'esistenza di The Legend of Korra. Si tratta sostanzialmente di un brawler single player ispirato all'omonima serie e attualmente in sviluppo presso Platinum Games. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 ed Xbox 360. Ci sarà anche una versione 3DS, la quale tuttavia prenderà le forme di uno strategico a turni. Le arti marziali di Korra saranno riprodotte secondo la loro forma elementale e permetteranno naturalmente di sviluppare moltissime combo. Novità da Tecmo Koei, che ha annunciato la localizzazione per i territori europei, di Arno Sorge, interessante gioco di ruolo, in uscita il 26 settembre in esclusiva PlayStation 3. Tecmo Koei ha anche annunciato il fatto che farà davvero di tutto per fare lo stesso lavoro su Arno Sorge Plus, ossia la versione PlayStation Vita recentemente annunciata da Gast. E passiamo ora ad Odward in Habitance, che ha annunciato il fatto che Odward New & Tasty arriverà anche su Xbox One come parte del progetto per sviluppare sviluppatori indipendenti ID at Xbox. Inizialmente sembrava non dovesse essere così, ma sembra proprio che il programma abbia finalmente convinto la software house, che ha deciso quindi di sfruttare la possibilità di autopubblicare. Sembra invece purtroppo improbabile l'arrivo del titolo su Xbox 3 e 60, dato che in quel caso ci sarebbe bisogno di un publisher esterno. E come sempre passiamo adesso le nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo che assegnarlo a Mojang e al grandissimo e inarrestabile successo di Minecraft. I numeri continuano a crescere, siamo arrivati a 54 milioni di unità vendute, la maggior parte dei quali su console. I numeri sono veramente incredibili, si parla di 15 milioni di download su piattaforme PC e Mac, 12 milioni su Xbox 360 e ben 21 milioni per la versione mobile, iOS e Android. La galoppata è tra l'altro destinata a non fermarsi, dato che ancora manca all'appello l'edizione next gen che uscirà entro agosto, quindi avremo nuovamente dei record da registrare per Mojang. Il flop di questa settimana ci tocca invece assegnarlo a Crytek. Negli ultimi giorni si sono rincorsi moltissimi rumor relativi a problemi economici all'interno della compagnia che potrebbero aver portato alla cancellazione di un ipotetico seguito di Rise, anche se in quel caso sembra ci fossero anche contrasti per il possesso della proprietà intellettuale con Microsoft. Come se non bastasse potrebbero essere state cancellate anche altre nuove IP, anche se in questo caso le informazioni sono ancora molto fumose. Naturalmente noi cercheremo di tenervi aggiornati su tutti i possibili sviluppi di questa situazione. Anche per oggi con le nostre notizie è tutto, noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo martedì. Ciao!